Andre? Sì? Che dici se mi mettessi questo vestito per il 31? Certo, ti sta benissimo! Ed invece questo? E poi le scarpe nere o queste? Vale, ma ti sta tutto benissimo! E poi, ma mica dobbiamo andare al grand hotel! Ma chi c'entra? Siamo qui a casa con un po' di amici! Ma lo sai che io voglio essere impeccabile non in situazione? Dai! Attenzione Vale, vorrà dire che io metterò il pavillon soprattutto da ginnastica! Il solito scemo! Gastone! Che sia parte! Vi auguriamo di trascorrere un 2018 ricco di soddisfazioni, gioia, serenità, salute, ma soprattutto tanti, tanti bei viaggi! Eh sì, perché come disse Oscar Wilde, il viaggio illumina la mente ed elimina i pregiudizi! Auguri! Auguri!